Un altro raggruppamento che si può fare è quello delle permutazioni. Noi abbiamo visto adesso le disposizioni semplici e con ripetizione, vediamo adesso che sono le permutazioni. E cominciamo chiaramente dalle permutazioni semplici. Anche in questo caso cominciamo con un esempio, ci sono quattro palline colorate, ognuna di un colore diverso, supponiamo bianco, nero, rosso e verde, e vogliamo sapere in quanti modi possiamo metterle in fila. Quindi io ho bianco, nero, rosso e verde, in quanti modi posso disporre queste quattro palline, tutte quante in fila in questo modo, una dietro l'altra? Allora, in che modo possiamo individuare una formula e il modo di ragionare per risalire al numero. Allora, vediamo tutti i possibili raggruppamenti. Allora, se partiamo con il bianco, la seconda può essere nera, rossa o verde. Se è nera, forse può essere o rossa o verde. Se invece è rossa, può essere o nera o verde. E se invece è verde, può essere o nera o rossa. Questo per quanto riguarda la terza pallina. Ovviamente la quarta pallina sarà obbligata, perché sono quattro, ne abbiamo usate tre, l'ultima sarà quella che resta. Quindi, con quattro palline, diciamo partendo dalla bianca, io ho uno, due, tre, quattro, cinque e sei possibilità, sei disposizioni diverse, partendo da una sola pallina. Poiché le palline sono quattro, questo lo devo fare quattro volte. Quindi in tutto sarebbero sei per quattro, ventiquattro raggruppamenti diversi. Ora, se guardiamo tutti i gruppi, qual è la differenza tra un gruppo e l'altro? Quindi ogni gruppo contiene ovviamente tutti gli elementi e differisce solo per l'ordine. Quindi nelle permutazioni quello che conta è solo l'ordine. In questo caso, diciamo, la definizione assomiglia molto a quella delle disposizioni semplici, solo che in questo caso k è uguale a n. quindi praticamente le disposizioni semplici di n oggetti di classe n non sono altro che le permutazioni. Quindi quando parliamo di permutazioni non facciamo altro che parlare di un particolare modo di disporre gli oggetti, disposizioni quindi, solo che vengono coinvolti questa volta tutti gli oggetti in considerazione. Allora, se noi andiamo a vedere qual è la formula delle disposizioni semplici, vediamo che l'ultimo elemento termina con n-k più 1. Ma n-k più 1, se n uguale a k, terminerà con 1. Quindi nel nostro esempio parliamo di permutazioni e il numero delle permutazioni è 24. Quindi, dicevo, andiamo a vedere la formula. Delle disposizioni n con n, l'ultimo elemento sarebbe n-k più 1, ma se k uguale a n, n-k, cioè n-n, fa 1. Quindi si ottiene una formula che è questa, cioè si moltiplica n, si scala di 1 e si moltiplica, si scala di 1 e si moltiplica, fino ad arrivare a 1 e questo simbolo si indica con questo modo e si legge n fattoriale. Quindi 4 fattoriale si intende 4 per 3 per 2 per 1. Queste sono le permutazioni semplici, quindi sono tutti i gruppi che si possono formare da n elementi e ogni elemento differisce solo dall'ordine. Vedremo che queste permutazioni sono uno strumento molto potente per fare, per calcolare le permutazioni e per calcolare anche i raggruppamenti che si possono formare in particolari situazioni. Vedremo dopo, magari in un video a parte. Facciamo un esempio, allora dice, quanti numeri di 6 cifre distinte possiamo scrivere utilizzando gli elementi dell'insieme 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Cioè quanti sono tutti i possibili numeri che possiamo scrivere con questa cifra e ogni numero differisce dall'altro solo per l'ordine delle cifre. La risposta è 6 fattoriale, cioè 720 e tra queste c'è per esempio il numero 234.789 oppure 987.432 e così via. Quindi basta cambiare di posto ogni cifra ognuno dei numeri di 6 cifre che ottengo farà parte di queste 720 cifre. Anagrammi. Quali sono gli anagrammi della parola canto? Oh, basta cambiare di posto le varie lettere e saranno 120 perché 5 fattoriale sarà 120. Ovviamente non tutti gli anagrammi hanno un senso hanno un significato un senso compiuto per noi questo non ci interessa perché a noi interessa solo capire come si calcolano i raggruppamenti che si possono formare. Esistono anche degli esempi un po' più particolari tipo il terzo vediamo chi dice. Dice che 5 ragazzi hanno a disposizione 5 sedie. Si chiede in quanti modi possono sedersi se le sedie sono disposte intorno a un tavolo rotondo allora sembra che non cambi nulla in realtà il tavolo rotondo rispetto alla disposizione in fila cambia tanto allora diciamo così che se le sedie fossero in fila ovviamente il conto è facile sarebbero 120 modi diversi ma se le sedie sono disposte intorno a una circonferenza ovviamente ci sono dei raggruppamenti che sono che coincidono perché io non faccio altro che fare una fotografia dei ragazzi seduti sulle sedie da diverse angolazioni da diversi punti di vista diciamo così quindi io non è che comincio da una sedia e vedo la seconda la terza la quarta e la quinta quindi se indichiamo quindi come facciamo diciamo a calcolare il numero giusto intanto partiamo dal presupposto che vi sono per mutazioni che posti in ordine circolare queste coincidono quali sono? allora vediamo come distinguere prima i ragazzi i ragazzi li possiamo distinguere con le lettere A, B, C, D, E oppure con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 quindi questi sono i ragazzi quindi chiamiamo i ragazzi con le prime 5 lettere dell'alfabeto allora quando queste le dispongo in fila sono così quando le dispongo circolare la E è attaccata l'A quindi sono equivalenti anche i gruppi a B, C, D, E la E passa prima dell'A oppure la A passa dopo la E eccola qua B, C, D, E, A è equivalente a questo perché non faccio altro che vedere lo stesso cerchio la stessa disposizione dei ragazzi seduti sulle sedie lo stesso quando B va qua va dopo l'A e sono questi quindi le configurazioni possibili equivalenti meglio sono 5 quindi i modi che coincidono sono tanti quanti i ragazzi diciamo così sono 5 ok quindi possiamo dire che tutti i modi possibili sono P5 diviso 5 cioè 24 P5 sarebbero le permutazioni eccolo qua P5 di 5 oggetti presi 5 alla volta è un esempio di permutazioni circolari ecco le configurazioni equivalenti sono disegnate sono rappresentate in questa figura cioè A, B, C, D ed E equivalente ad A, B, C ed E qui non c'è un primo e un ultimo sono tutte configurazioni possibili mentre quando li metto in termini lineari allora c'è il primo e il secondo e così via facciamo anche quest'altro esempio Dario ha 5 caramelle gommose di 5 colori e 2 cioccolatini diversi quindi per distinguere uno al latte e uno fondente in quanti modi Dario può mangiare i 7 dolciumi senza senza attenzione a questa parola senza mangiare per prima tutte le caramelle allora vediamo come fare andiamo in un foglio sul nostro foglio e andiamo a vedere come risolverlo Dario ha 5 caramelle quindi queste 5 caramelle le chiameremo caramella A caramella B caramella C caramella D caramella E due diversi cioccolatini i cioccolatini i cioccolatini i cioccolatini li chiameremo per distinguere della caramella con i numeri 1 e 2 al latte e fondente allora quanti sono i modi in cui Dario può mangiare i 7 dolciumi senza mangiare per prima le caramelle allora cominciamo in quanti modi Dario può mangiare le caramelle se le caramelle sono 5 i modi in cui può mangiare le caramelle è P con 5 cioè 5 fattoriale P con 2 invece 2 fattoriale è il modo con cui Dario può mangiare tutti i cioccolatini allora questo fa 120 e questo fa 2 quindi il numero di modi in cui Dario mangia prima le caramelle e poi cioccolatini è 5 fattoriale per 2 fattoriale quindi 2 per 120 fa 240 modi quindi questo è quanti modi possibili mangia prima le caramelle e poi cioccolatini ovviamente anche i modi in cui mangia prima i cioccolatini e poi mangia tutte le caramelle ora se ci chiediamo in quanti modi può mangiare i cioccolatini a caramelle cioè in che modo io posso mangiarmi le caramelle e i cioccolatini in qualsiasi ordine quindi senza guardare se mi mangio prima il cioccolatino o le caramelle in questo caso sono 7 elementi che io posso decidere di disporre come voglio per esempio mangio prima il cioccolatino al latte poi la caramella D poi la caramella B poi l'altro cioccolatino e così via allora questo lo chiamiamo N1 il numero di modi totali quindi è 7 fattoriale perché sono 7 gli elementi e 7 fattoriale fa 7 fattoriale mi pare 720 7 x 6 x 120 5.040 quindi 5.040 modi diversi ora Dario quindi in quanti modi qual era la domanda in quanti modi può mangiare i 7 dolciumi senza mangiare per prima tutte le caramelle se 240 sono i modi di mangiare i 7 dolciumi partendo dalle caramelle i modi in cui può mangiare i 7 dolciumi senza mangiare per prima le caramelle sarà 5.040 meno 240 e quindi sarà 4.040 e 800 modi diversi quindi questi 4.800 modi diversi che sono sono i modi in cui può mangiare i dolciumi senza mangiare per prima le caramelle andiamo a vedere adesso continuiamo il libro quindi dice fa delle considerazioni sul fattoriale quindi definisce la funzione fattoriale come n fattoriale eccola qua quindi per definizione 0 fattoriale fa 1 1 fattoriale fa 1 è una funzione crescente molto rapida eccetera qui facciamo altre considerazioni di tipo matematico più che altro e andiamo poi a vedere un risultato molto importante riguardo la formula delle disposizioni intanto il fattoriale definito ricorsivamente è questo cioè io calcolo n fattoriale dal fattoriale del numero precedente questo è ovvio perché se io devo calcolare 6 fattoriale devo fare 6 per 4 per 3 per 2 per 1 è come se facessi 6 per il 5 fattoriale quindi n per n meno 1 fattoriale se al posto di n ci metto n più 1 quindi c'ho n più 1 fattoriale uguale n più 1 n più 1 meno 1 n fattoriale cioè se il 7 fattoriale lo trovo facendo 6 fattoriale per 7 quindi è una definizione ricorsiva e posso ricavare anche quest'altra relazione questa che dice che n più 1 fattoriale meno n fattoriale e n per n fattoriale ma questo è facile verificarlo ho qui una semplice dimostrazione n più 1 fattoriale meno n fattoriale e basta che sostituisco a n più 1 fattoriale n più 1 per n fattoriale poi devo sottrarre n fattoriale quindi raccolgo n fattoriale quindi diventa n più 1 meno 1 e quindi c'ho n per n fattoriale per esempio quindi questo è utile quando devo fare il fattoriale tra la differenza tra fattoriali per esempio quanto fa 6 fattoriale meno 5 fattoriale in questo caso applichiamo la formula quindi n più 1 meno n devo fare n cioè il 5 per n fattoriale cioè 5 per 5 fattoriale allora dicevo che il fattoriale ci serve anche per ricavare una formula sulle disposizioni semplici e se le disposizioni semplici si calcolano n per n meno 1 fino ad n meno k più 1 allora per esempio 5 e 3 devo arrivare fino a 3 ma arrivare fino a 3 vuol dire completare il fattoriale e dividere per quelli che per i fattori che moltiplico il numeratore cioè 5 per 3 5 per 4 per 3 lo vedo 5 per 4 per 3 per 2 per 1 è completo il fattoriale ma se ciò ho moltiplicato per 2 per 1 basta dividere per 2 per 1 per far tornare 5 per 4 per 3 ma questo non è altro che il rapporto tra 5 fattoriale e 2 fattoriale ora 5 e questo 5 e questo 2 fattoriale non è altro che 5 meno 3 quindi io posso ricavare questa formula e dire che le disposizioni semplici di ogni oggetto di classe k li ottengo semplicemente utilizzando questa formula che poi è quella che ci si ricorda di più n fattoriale diviso n meno k fattoriale qui dimostra come la formula delle disposizioni che avevamo ricavato prima è uguale appunto a questa ora staccate è che sei che sei